Se n'è occupata la commissione di disciplina dell'ASP7 di Ragusa del caso gonfio di polemiche che ha visto protagonista il chirurgo primario dell'ospedale maggiore di Modica Vincenzo Antonacci. Quest'ultimo era finito nel mirino del manager dell'azienda ospedaliera Maurizia Ricò per alcune dichiarazioni rese in sede di consiglio comunale aperto subcomprensoriale tenutosi lo scorso 29 gennaio per discutere della sanità iblea alla luce del nuovo piano sanitario regionale. Un incontro tra il presidente dell'ordine dei medici di Ragusa, Salvatore Damanti, lo stesso primario Antonacci e il manager ASP7 Maurizia Ricò per analizzare la questione nel merito ha alla fine chiarito tutto, sgonfiando le polemiche con un richiamo orale e una stretta di mano tra le parti in causa. Una scelta saggia e auspicabile per non arroventare ulteriormente il già incandescente settore della sanità iblea in subbuglia a causa del nuovo piano sanitario regionale. Antonacci pare abbia fatto un passo indietro in riferimento alla sua affermazione relativa al fatto che al maggiore mancassero le attrezzature basilari per poter operare al meglio. criticando apertamente in pubblico il direttore generale dell'ASP, il quale aveva assunto i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti del primario, che in pratica aveva paventato presunti favoritismi verso l'ospedale di Ragusa a discapito di Modica, dove mancherebbero anche gli strumenti di lavoro basilari. A Ricò che aveva ascoltato di persona le affermazioni del primario, si era poi subito dato da fare interessando della vicenda la commissione di disciplina dell'ASP, formata da medici ed avvocati, per valutare il tenore e la fondatezza delle dichiarazioni rese da Antonacci, che allo Stato non è stato sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare. Ora il chiarimento tra gli attori della vicenda pone definitivamente la parola fine a questa vicenda, che era stata con tempismo cavalcata anche in ambito politico, gettando benzina sul fuoco di un settore che ha bisogno invece di programmazione e dati concreti a tutto vantaggio dei cittadini utenti. Grazie a tutti.